Buon pomeriggio, è una prova tecnica, quindi vi chiedo scusa, ma ne approfitto per fare le congratulazioni alla neogovernatrice Todde, che ha vinto sul filo di lana, è stata una competizione molto serrata e speriamo che sia la prima spallata, la prima spallata a questo governo, che è un governo indecente, e soprattutto, a differenza di quello che dice Minni, questo è un voto che ha una rilevanza nazionale, semplicemente perché il candidato Truzzu è stato imposto dalla Meloni, la Meloni ha fatto campagna elettorale più di quanto ne abbia fatta lui, lui praticamente è andato a rimorchio, e lei ci ha messo tutto il suo peso, considerato anche che il candidato oggettivamente non era il candidato ideale, ecco, quindi sono ben contento che abbia vinto la Todde, adesso bisogna far vedere che siamo capaci, quindi gli auguro tutte le fortune del mondo, e soprattutto bisogna ricordare una cosa, Lashlein, questa vittoria è una vittoria pentastellata, non è una loro candidata, è una candidata dei 5 Stelle, perché io dubito che se avessero candidato un'altra del PD l'avrebbero votata, anche se il PD è arrivato come partito dell'isola, il risultato dei 5 Stelle non è assolutamente male, considerato che ha votato la metà della gente in pratica, ma hanno votato la candidata dei 5 Stelle, a causa del voto disgiunto non si può dire, beh, ha vinto il PD, allora no, hanno votato la candidata dei 5 Stelle, poi ve l'ho detto, c'è il problema della radicalizzazione sul territorio che è inesistente, non sapete, è una cosa su cui io picchio spesso, ma hanno votato la candidata dei 5 Stelle, io non so, se avessero messo l'ennesima o l'ennesimo boiardo di stato del PD sarebbe avuto la forza di vincere, per cui brava, adesso ci si tira su le maniche e ci si mette a lavorare a testa bassa, per far sì che la Sardegna sia il primo, la prima martellata al muro meloniano, così lo facciamo crollare, la prossima spallata bella forte bisognerebbe dargliela alle europee, perché se alle europee prendono un'ennesima stringa, allora si cominceranno ad avere un po' di bruciorina al posteriore, se invece alle europee reggono, continueranno ad andare avanti così come stanno facendo, sbattendosene altamente le scatole dei danni che fanno e andando avanti, seminando macerie a destra manca. Io vi saluto, è un video cortissimo, soprattutto un test, perché mi ha avvisato Jack che stamattina c'erano dei problemi, da una parte non compariva l'ultimo video che abbiamo caricato, quello che è stato registrato ieri sera, e dopo la sostenibilazione ho visto anche la live di Elena che non riusciva a caricare il video, quindi spero che questo lo vediate, vediamo se è il solito problema della piattaforma che ogni tanto sclera e quanto ci mettere il suo angolo. Ciao a tutti!